11 macchinari abusivi oltre 2 milioni e mezzo di accessori e articoli contraffatti sono stati sequestrati dai dipendenti del gruppo della guardia di finanza di Torre annunziata. Posti sotto sequestro due opifici abusivi a Casoria e ad Acerra, in particolare la compagnia di Casal Nuovo di Napoli ha effettuato un accesso in un prefabbricato di 60 metri quadrati a Casoria, all'interno del quale è stato rinvenuto un opificio completamente abusivo, minuziosamente adibito e attrezzato per la produzione di calzature di note griff contraffatte. Nel locale erano presenti diversi macchinari per la produzione di scarpe, nonché accessori vari e prodotti finiti con marchi industriali per i quali il responsabile non è stato in grado di esibire alcuna documentazione che ne attestasse la legittima detenzione e sfruttamento economico. Sono anche stati rinvenuti punzoni e cliché per l'illecita riproduzione delle griffe. Durante un intervento la stessa compagnia di Casal Nuovo ha eseguito un accesso in un opificio ad Acerra gestito da un uomo di nazionalità cinese. Durante l'attività ispettiva è stata riscontrata la presenza di due lavoratori privi di regolare inquadramento contrattuale e contributivo. Inoltre all'interno dell'opificio sono stati rinvenuti 300 kg di rifiuti e scarti della lavorazione detenuti in quantità superiore ai limiti previsti dal codice dell'ambiente in maniera non conforme alle vigenti disposizioni.